ho visto il film ladri di biciclette che spiega la storia di una civiltà che esce fuori dalla guerra che c'è povertà quindi con la bicicletta riuscivano anche con i piccoli furti ad avere qualcosa la bicicletta è cambiata dall'epoca del film il valore della bicicletta è cambiato in altro tipo di valore affettivo invece che di essere un valore primario la storia di questo negozio è una storia di attività artigianale dalla costruzione della bicicletta ma anche a dei pezzi per la bicicletta ha cominciato mio nonno nel 1899 ha continuato mio padre e adesso ci sono io sta continuando mio figlio la sensazione di andare in bicicletta per me è una sensazione particolare perché faccio questo lavoro da sempre ho cominciato a lavorare a lavorare a 11 anni ora ne ho 47 e nel mio lavoro la bicicletta è proprio la passione quindi andare in bicicletta o a roma o per tempo libero o per sport è un senso di libertà una volta quando rubavano la bicicletta si erano impegnati a comprarla quindi hanno fatto uno sforzo economico per cercare di muoversi al minor costo possibile adesso si lo fanno uguale però se viene rubato una bicicletta dispiace però ne fanno un'altra invece 30 anni fa 40 anni fa o 50 anni fa nel quanto riguarda l'epoca del film di rade dei bicicletti di desica significava una perdita molto importante molto importante oggi a roma si va in bicicletta perché ci si vuole andare per un po per quanto riguarda il tipo di traffico che c'è e un po riguarda anche la mobilità che a roma non è proprio il massimo nell'epoca del film di desica era una priorità adesso con il capitalismo col consumismo si cambiano molte più biciclette però vedo che il costo della bicicletta negli ottimi tempi è aumentato perché la bicicletta sia specializzata è diventata la bicicletta elettrica è diventata la bicicletta importante la bicicletta in carbonio il consumismo e il capitalismo lì cerca di farsi avanti però i costi sono talmente elevati che anche le persone quando comprano una bicicletta importante da 3 4 5 mila euro da comprare una volta e basta ci sono molti ladri di biciclette tanti anni ne rubano dalle statistiche che ho sentito circa una ogni otto minuti a roma in italia si parla di altre cifre a bologna una ogni quattro minuti dipende però ci sono tanti ladri di bicicletta tanti a Grazie a tutti.